Le marche passano ufficialmente da zona gialla ad arancione. Lo fa sapere il governatore Francesco Acquaroli che in un post su Facebook scrive Mi ha chiamato il ministro Speranza per anticiparmi la comunicazione ufficiale rispetto alla variazione della fascia di colore della nostra regione che da gialla diventa arancione. Una classificazione che fino a ieri non era prevista seppur negli ultimi due giorni i numeri dei positivi erano oggettivamente cresciuti, in particolare quello dei sintomatici. Per questo stavamo studiando un'ordinanza anti-assembramento che a questo punto diventa inutile. Le marche saranno quindi soggette a restrizioni più stringenti. A partire da domenica 15 novembre saranno vietati gli spostamenti da una regione all'altra e da un comune all'altro, salvo per motivi di lavoro, studio, salute ed altre necessità. Chiusi bar e ristoranti sette giorni su sette. L'asporto rimane consentito fino alle 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Prevista anche la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole situate al loro interno. La didattica sarà a distanza per le scuole superiori, ad eccezione di studenti con disabilità e per l'uso di laboratori, mentre permane la didattica in presenza per scuole dell'infanzia, elementari e medie. Chiudono le università, salvo alcune attività per matricole e laboratori. Ridotta al 50% la capienza del trasporto pubblico, ad eccezione di quello scolastico. Sono sospese le attività in sale giochi, bingo, slot machine e sale scommesse. Chiusi musei e mostre ed anche piscine, palestre, teatri e cinema, mentre rimangono aperti i centri sportivi. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, con circolazione permessa se muniti di autocertificazione e solamente per comprovati motivi di salute, lavoro e necessità. Dispiace sicuramente vedere ulteriormente compromesse le nostre libertà e penalizzata la nostra economia, scrive Acquaroli, ma invito comunque a rispettare le misure previste dal DPCM, che avranno una validità di due settimane a partire da questa domenica compresa.